Allora, se campese mi si blocca ancora, l'ammaccio, però vabbè, questa è già la terza volta che rifaccio, no, la quarta volta che rifaccio il video, quindi bloccati ancora e ti mando all'ospedale. Comunque, in questo video vi mostrerò quanto guadagnano più o meno gli youtubers, io parlo di me stesso, ma questo numero potrebbe variare in 20.000 mod, gli assurdi, cioè, che poi io ho fatto 450.000 viste, 100 euro, uno potrebbe anche fare 1.000 euro, cioè, potrebbe, è impossibile praticamente, però potrebbe. Comunque, mentre stavamo a fare informatica a scuola, non so perché, che cazzo ha detto la prof, io ho detto youtube, ma che varie, questo mio amico ha detto che gli youtuber fanno 1 euro ogni 1.000 visite, una storizzata non assurda, ma di più, perché pensando come ha ragionato lui, io avrei dovuto fare con 150.000 viste, che poi ho anche scancellato molti video, avrei dovuto fare circa 15.000 euro, se non lo sbaglio, tipo, comunque amati non è col 3, e ci ho fatto solo 100 euro, che d'altro da me vanno anche bene, a parte questo fattore che non ha azzeccato per niente, poi c'è anche la parte che va anche ma youtube, queste merdate qua, io avrei fatto in tutto, in tutto, proprio 176 euro e 87 centesimi, però a me mi hanno entrato di 90 qualcosa d'euro, perché youtube ha preso più della metà dei soldi che ho fatto, quindi già contato questo, poi da 150.000 visite, contate tipo, per esempio, da 150.000 visite, tipo, solo 50.000 vengono monetizzate, quindi non tutte, perché se venissero tutte sarebbe solo uno spreco di soldi per le aziende, in due parole, per noi sarebbe meglio che, cazzo, avrei fatto tipo, tre volte tanto, 300 euro, cioè, però a me va bene anche così, e niente, spero che questo video vi ho fatto capire un po' come funziona, è un video proprio fatto all'ultimo minuto per spiegare a sto amico principalmente come funziona, ma, per spiegarevi meglio, guardate qua, con questo video di 32.000 visite, ho fatto 52 euro, che è impossibile, come ha pensato lui, lui dice, un euro ogni mila di soldazione, quindi avrei dovuto fare circa 3.200 euro, boh, una roba simile, invece no, ho fatto 52 euro, e ne vado anche zero, perché comunque, facendo un video dove installo il mod menu, dove c'è piegato di un quanto, manco due ore in tutte, per perdita, per il video, tutto, in modo che ho 52 euro, stando a casa, comodamente, mi sono impegnato poi ad inzarlo e basta, a me va anche bene, quindi, niente, questo era un video così costo, da 3 minuti, circa, questo mio amore, Daniele Gentili, lo saluto, perché è un frocio, e niente, GIOUSEPETTE!